buongiorno buona gente questo cordiale saluto vi giunge dagli studi di etv per la nostra vostra rassegna stampa buon lunedì quindi cominciamo con una notizia un po così ma possiamo rimediare nel corso di questa rassegna per esempio possiamo dirvi che saranno belle giornate partiamo da qui con l'anticiclone africano e quindi questa cappa di bel caldone che cade sulle marche altrove verso il nord italia per chi dovesse fare vacanza da quelle parti troverà invece oggi un pochettino di pioggia certo questa situazione positiva per chi si gode il riposo e il mare diventa un pochettino invece negativa e andiamo subito ad una delle notizie più gettonate per le mucillaggini perché il raffreddore del mare così come viene ribattezzato è destinato a peggiorare proprio con le ondate di calore che sono previste nei prossimi giorni a parlare è il professor danovaro sul carlino edizione marchi di oggi 8 luglio 2024 cominciamo o ricominciamo a seconda dell'orario di fruizione del programma che anche nella versione estiva va dalle 6 e 45 fino alle 9 30 e poi in riproposizione 13 30 e 14 30 e poi in ulteriore proposizione dalle 18 alle 19 anche oggi avremo verso il finale della puntata ospite uno degli esponenti della scuola magna sarache di piero massimo macchini che si esibirà nel corso di caffè teatro il format di cabaret l'11 luglio seconda serata dopo il sold out del 27 giugno tra un'ora e mezzo diciamo sorrideremo insieme con uno dei cabarettisti protagonisti della kermess pronti a cominciare ora come sempre con una scorpacciata veloce di notizie una news per ogni provincia e allora andiamo dal maceratese il compositore la storia i costumi la norma raccontata da gave zeni il direttore successo per il secondo appuntamento maceratese di tutti all'opera questa iniziativa dell'opera raccontata attraverso i suoi protagonisti inevitabilmente però dal maceratese dico e non solo la tragedia di montefano campeggia su tutti i giornali poco fa vi ho fatto vedere anche e sentire il servizio della collega giulia boschi lancia l'auto nel laghetto e muore con la moglie rita era malata giuseppe ne soffriva ieri sera concerto al tramonto con l'orchestra dei fiati di filottrano e con marco e lucia santini dedicata proprio a giuseppe e rita perché sono gli zii erano ahimè gli zii ma restano e quindi sono restano nel cuore gli zii del sindaco luca paolo rossi cui mandiamo un grande messaggio di cordoglianze porto santo elpidio e siamo alla provincia del fermano che cosa è successo qual è una delle notizie che più di altre trovate oggi sui giornali il palio del mare vinto dai delfini festa a colori fra gare e spettacoli ecco il momento della celebrazione con la consegna dell'ambita coppa grande festa a porto santo elpidio per la provincia di ancona la notizia di primo piano il comune piange paolo moscatelli era vice comandante dei vigili di senigallia per la provincia di ascoli pizzeno invece la storia di calvaresi emigrante offidano che ha fatto fortuna in america ed ora è tornato a casa ho cucito gli abiti di sinatra e dell'autista di al capone a 89 anni calvaresi appunto è tornato a casa infine ma dulcis in fundo perché c'è una storia forte legata alla vita e legata alla prevenzione la testimonianza di monica dalla disperazione alla rinascita io malata di cancro ve lo grido fate prevenzione la prevenzione può salvare una vita in questo cito spesso la professoressa rossana berardi luminare di oncologia dell'ospedale regionale torrette di ancona certo il messaggio della prevenzione va raccontato e ricordato ogni giorno pesaro ora un'altra notizia veloce prima di sfogliare insieme le pagine di giornale colpo grosso nella villa di cesaroni il commercialista è a cena i banditi portano via mezzo milione in gioielli la magra consolazione ma consolazione debbo dire il fatto che perlomeno i coniugi non fossero all'interno dell'abitazione durante il furto cosa che poteva poi portare a conseguenze più gravi e pericolose eccola anche qua la storia di giuseppe rita il dramma dell'alzheimer in diversi ci hanno scritto le famiglie vengono lasciate sole gesto estremo per amore erano gli zii appunto del sindaco paolo rossi lo ricorda anche il giornale emanuele buongiorno grazie e buongiorno a chi ci sta mandando tanti messaggi le foto sabato sera a sirolo una bellissimo scorso del nostro meraviglioso mare buona settimana e buon lavoro a tutti un po di preoccupazione c'è per il tema mucillaggini ma si tratta di una situazione speriamo davvero in miglioramento buongiorno maurizio 24 gradi qui al passetto foto presso le torrette ristorante vecchia pesca di sabato sera grazie a che bello lì c'è anche la possibilità di dessinare in riva al mare praticamente anzi immersi proprio nel mare una bella foto di tramonto che ci viene dalla zona delle torrette di ancona grande successo degli eventi ad ancona in questo inizio estate altro che flop o non c'è nessuno aspettando dardast e altri che sicuramente arriveranno allora non per difendere il lavoro delle colleghe dei colleghi della stampa il flop mezzo poi neanche perché c'era una bassa pernotazione per la prima delle serate dell'ulisse fest per questo alcuni giornali ci hanno un po calato la mano l'altro tema dei grandi eventi e su agosto il corriere in particolare ha attaccato pesantemente l'amministrazione per la mancanza di eventi nel periodo di agosto questi sono gli elementi per cui c'erano state un po di polemiche ma quando metti in mezzo Malikaian per esempio il successo è assicurato straordinaria interprete della musica italiana e non solo eccoli i giornali la carta stampata allora vi porto velocemente a fermo e al fermano ma li leggiamo tutti e manca personale qualificato aziende del fermano in difficoltà questo lo diciamo quasi tutti i giorni venerdì per fare l'esempio il carlino maceratese dava lo stesso tipo di problematica aziende in difficoltà mancano lavoratrici e lavoratori per poter fare lavori che possano portare fatturato per addirittura nel fermano 33 milioni di euro taglio centrale con il palio del mare e la vittoria dei delfini e poi altre news affermo il sindaco calcinaro che gongola perché tre atleti del fermano andranno alle olimpiadi ci siamo quasi no parigi si avvicina prima bisogna completare la pratica dell'europeo che per il calcio e per noi italiani è andata un po così dopo l'europeo scatterà l'olimpiade e lì ci rifaremo sicuramente da gimbo tamberi in giù i marinai d'italia a villa baruchello un sogno realizzato a porto sant'elpidio e poi il parapiglia sul lungomare due fermati dopo la rissa tutto sarebbe nato ripeto a porto sant'elpidio da un episodio una bimba aggredita da un cane poi scatta la violenza blitz della polizia a porto sant'elpidio pronta l'edizione di ancona e provincia ma prima altri messaggi buongiorno buon inizio di settimana da marta anche il lunedì ha il suo lato positivo è solo un altro giorno per essere straordinari bello questo pensiero che ci dà speranza lunedì 8 luglio 24 oggi l'uomo più felice è quello nel cui animo non c'è alcuna traccia di cattiveria condivido e sottoscrivo anche perché ad essere cattivi ci si rimette anche in salute oltre che si perde eventualmente un amico buongiorno buon lunedì a tutti con una stella marina ci scrive cristina da porto sant'elpidio grazie cara cristina un abbraccio a te e viva la natura viva il mare marchigiano che ci dà da lavorare ci dà anche da divertirci eravamo proprio poco fa carissima nel fermano vado invece ora all'anconetano la sosta in centro che scoppia auto lasciate ovunque sabato sera per il concerto al porto antico davanti alle muse un vero tetris e l'altra faccia dei concerti degli eventi una strage di multe c'è scritto anche credo un amico multato proprio in questo contesto e non sono proprio belle parole auto nel lago annega con la moglie la vicenda di montefano l'omicidio suicidio la fine di una coppia di filotrano lei era malata di alzheimer tra poco vi faccio sentire anche il servizio realizzato dalla collega giulia boschi entra in una villa si denuda in piscina e dice scusate ma volevo rilassarmi un episodio che si è verificato nella zona della trave quindi verso porto novo non ci aveva manco il costume non ci aveva proprio nulla addosso incubo mucillaggini che torna a porto novo e allora tutti sotto la doccia succede dice il corriere a porto novo ma in realtà come potete vedere qui siamo nella zona di san benedetto stessa situazione sembrava che dopo le piogge un paio di giorni di pioggia di settimana scorsa un po' di mare grosso il problema si fosse superato invece il professor danovaro qui ripeto siamo al carlino ci tornerò tra poco dice senza mareggiate il problema non passa evitate i bagni ripensiamo il calendario della pesca la marineria di san benedetto su questo tra l'altro ha già fatto domanda perché il fermo pesca di settembre venga anticipato a questi giorni in modo tale da poter pescare a settembre quando si augura che le mucillaggini non ci siano più la storia orribile delle torture nei confronti di un agnellino è successo nel fabrianese studenti condannati a curare gli animali erano in un percorso di stage avrebbero torturato senza motivo un agnellino dei ragazzi e dei ragazzini è successo a fabriano il dramma poi di senigallia sta male soccorretela l'appello disperato di un uomo per salvare la moglie lei collassa in casa a soli 69 anni lui urla disperato per chiedere aiuto arrivano i vigili del fuoco che erano impegnati pensate in un palazzo lì vicino ma purtroppo non c'è stato nulla da fare vado ora alla maceratese dopo il fermano dopo l'anconetano inevitabilmente qui il primo piano è dedicato alla morte nel lago la tragica fine di una coppia di anziani a montefano lei era malata lui ha deciso di farla finita il servizio lui è entrato poi si è lanciato direttamente in acqua noi stavamo là e avete provato a buttarlo due ragazzi due ragazze che sono tuffati sono entrati in acqua mentre la macchina mentre la macchina galleggiava quando la macchina ha sprofondato lui andava con la macchina insieme a loro fortunatamente gli ha fatto liberarsi e riuscì fortunatamente stava un miracolo nel ricordare la scena che ha vissuto solo poche ore prima ancora i brividi franco beccaceci gestore del circolo di pesca sportiva wild fish azioni di montefano chi alle nove si trovava lì per trascorrere una domenica sulle sponde del lago non ha potuto fare altro che guardare quella punto nero con a bordo due coniugi anziani finire in un attimo dritta nello specchio d'acqua due ragazzi hanno tentato di soccorrere la coppia ma una volta saliti nell'auto il mezzo ha iniziato da affondare rischiando di trascinare giù anche loro per moglie marito purtroppo non c'è stato nulla da fare i due giuseppe paolo rossi e rita capolaretti 92 anni lui 84 lei entrambi di filottrano erano i prozzi dell'attuale sindaco luca paolo rossi sul posto sono subito stati chiamati i soccorsi i carabinieri hanno provveduto a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto ma da subito ci sono stati pochi dubbi sul fatto che si trattasse di un gesto volontario non era la prima volta che l'uomo si recava sul posto l'ultima sabato mattina a quanto si apprende la moglie che era con lui era da tempo malata ieri mattina l'ha visto qua ha parlato con un po di ragazzi però non pensavo mai che quando stava meglio la moglie veniva a fare una passeggiata qua solo qui sul posto anche i vigili del fuoco i sommozzatori che hanno recuperato le salme dei due anziani e poi la vettura i corpi sono stati destituiti ai familiari questo il servizio della collega giulia boschi per una domenica di quiete di pace di riposo che invece si è trasformata in tragedia ancora un messaggio in riferimento al mancato intervento in difesa della ragazza trovo giustissimo quello che hai detto tu ovvero che il rischio di perdere la vita è elevato come altrettanto vero il fatto che le leggi spostate troppo a favore di caino fanno sì che il rischio di venire querelati sia diventato una certezza pertanto è gioco forza a stenersi dall'intervenire e anche questo è un fattore poco fa raccontavamo di una vicenda una mamma che dice mia figlia aggredita nessuno la difesa io mi sono permesso di ricordare purtroppo che capita che chi va ad aiutare le persone in difficoltà si trovi poi pure picchiato pure accoltellato è successo in più c'è l'elemento che se tu metti le mani addosso a qualcuno per difendere qualcun altro ma poi quel qualcuno lì ti potrebbe pure denunziare è vero è vero questo pensiero lo condivido ahimè ahimè è difficile anche fare la cosa giusta il fermano poi l'anconetano poi il maceratese vi porto ora alle prime pagine per ascoli e san benedetto attenzione saluti intanto desiree maurizio borgognoni il mitico salutami pierpa elisa livio grazie buongiorno pier silvio chiedo scusa ne saranno istituite zone 30 a porta maggiore altre nel quartiere luciani in particolare scatta il divieto di sosta nelle vie interessate c'è chi si è arrabbiato di questo dicendo con un messaggio che le zone 30 portano se non altro è successo a madrid e a parigi più smog il motivo è soprattutto però ripeto di sicurezza nelle zone di porta maggiore movida e qui siamo invece a san benedetto vigili urbani di notte spazza fumo il sindaco ha deciso firmando l'ordinanza in riviera il coreografo isopi vorrei un corteo che dia emozioni ancora ascoli cinghiali e incuria alla spiaggetta del castellano cinghiali che ci hanno preso gusto sono tornati fino in mare la vicenda drammatica di montefano infine mia figlia aggredita per motivi di gelosia eccola la notizia commentata poc'anzi parla la madre della ragazza di 14 anni picchiata nessun passante lei racconta si sfoga è intervenuto per aiutarla mi manca solo a questo punto all'edizione di fermo no l'ho letta tutto a questo punto ho letto tutte le news per le province secondo il corriere ora vi porto all'arresto del carlino ma c'è anche chi ci chiede giustamente di ripensare rivedere il weekend di eventi eccolo è Malika Iann ad aprire l'ultima serata di concerti dell'Ulisse Feste e a scaldare il palco dell'Arena sul Mare al Porto Antico di Ancona la cantante ha incantato il pubblico con i suoi più grandi successi e si è anche concessa qualche battuta raccontando di aver trascorso la giornata alla baglia di Portonovo di aver assaggiato i moscioli e poi ha ricordato di essere già stata nel capoluogo d'Orico diversi anni fa al Barfly una serata che ha avuto anche una buona affluenza di pubblico al punto da registrare quasi il sold out poi dopo la mezzanotte in tolte le sedie il palcoscenico illuminato di luci psichedeliche blu, viola e rosse è diventato dominio di Skin la leader degli skankanensis che si esibite in un DJ set insomma questo il bilancio di Ulisse Feste Rosaria buongiorno Gabriele buongiorno Cristiana buongiorno pronti con il resto del Carlino intanto ci chiedono a proposito di eventi se ci sono ancora biglietti per lo spettacolo dell'11 di luglio c'è una ventina ancora di biglietti a disposizione parliamo di caffè teatro questo il bilancio qualche immagine della prima serata il 27 giugno presenti le telecamere di tv con la possibilità di godersi le stelle perché il tempo sarà buono grazie a in teatro grazie al comune di polverici informazioni sulla pagina facebook di caffè teatro eccola qua e con i biglietti disponibili sul live ticket anche oggi visto che me l'hanno chiesto anche oggi avremo ospiti alcuni cabarettisti che si esibiranno tra questi anche l'11 di luglio della scuola magna sarache per poter passare una serata finalmente spensierata tra le tante notizie un po così eccole invece a proposito le notizie un po così parliamo del Carlino partiamo dall'edizione nazionale giusto per capire cosa accada intorno a noi allora è arrivato l'esito dei ballottaggi in francia la francia alla sinistra ma è rebus governo a sorpresa dopo il primo turno dove era stato importante il risultato della le pen tanto che quindi la destra tanto che centro macron e la sinistra si erano unite per questo secondo turno di ballottaggio ecco questo risultato ha portato alla sconfitta dice il Carlino netta per la le pen a sorpresa il nuovo fronte popolare è primo da parigi dunque arriva un messaggio contro putin perché putin aveva ammiccato alla le pen adesso la difficoltà sarà quella di creare un governo stabile per unire queste due forze centro e sinistra staremo a vedere per le news invece marchigiane che sono quello che più ci interessa in questo momento salutando chi ci sta seguendo anche dalla diretta facebook vado al volo è proprio al volo al volo a dare un saluto a cristiana jessica carla di civita nova non c'è niente ne abbiamo lette di cotte e di crude da civita nova carla basta un attimo ascoltare seguire è chiaro che una piccola fetta di programma non fa tutto il programma abbiamo già letto dalle 6 45 due volte le pagine e del corriere e del Carlino maceratese dicevo per quanto concerne invece la pagina marche del Carlino eccolo qua l'incubo mucillaggine senza amareggiate il problema resta questo il punto di vista autorevolissimo del professor danovaro anche le alte temperature incideranno nella fioritura algale e i prossimi giorni a proposito di alte temperature arriva questo anticiclone africano che porterà la colonina anche oltre i 30 gradi quindi se non arriva una mareggiata anche questa settimana sarà all'insegna delle mucillaggini palio del mare vittoria ai delfini dopo 21 anni seconda vittoria l'argento per gli squali non si parla di mare si parla di festa dei rioni san benedetto ubriachi minacciano i bagnini e li derubano e allora arrivano i carabinieri la storia drammatica di montefano l'auto finisce nel lago morti marito e moglie c'è un dramma della disperazione dietro shock lui 92 anni lei era malata di alzheimer l'ipotesi è quella di omicidio suicidio lui non sopportava più di vedere soffrire la compagna di un'intera vita da corridoni a qualche messaggio un po così su questa idea via libera il progetto dell'ascensore sulle mura per il centro di solito non funzionano mai e ci saranno diversi lavori disagi ora se non funzionano bisogna farli sistemare gli ascensori potrebbe essere un modo per permettere anche alle persone con disabilità o meno giovani di raggiungere il centro di corridoni a via libera comunque al progetto per l'ascensore sulle mura in centro polemiche per la variante a civita nova il santuario da protetto così rispondiamo anche l'amica carla la zona di ancona incredibile ma vero in una villa nella zona del trave ragazza trovata spogliata nuda nuda madre in piscina solo che non era la piscina sua non era casa sua il proprietario chiama le forze dell'ordine è arrivato anche un messaggio poco fa così simpatico vuole ironizzare immagino su questa notizia si ha chiamato i carabinieri vuol dire che non era bella insomma trovarsi una ragazza nuda in piscina dice però no c'è anche fosse stata una bella ragazza insomma la cronaca incombe questa non è gossip è cronaca ha spiegato volevo prendermi un momento così di riposo saluto intanto elisabetta dettabetta vittoria belvederesi mario rosario gentile marco staffolani andiamo nel frattempo a chiara valle punta una pistola contro una donna viene denunciato l'ulisse festa abbiamo visto il servizio poco fa per senigalli invece la polizia locale in luto muore a 62 anni il vice comandante moscatelli pronti con le news dal carlino pesarese poi le sfogliamo tutte insieme la festa del porto tutti sull'acqua e lancio dell'alloro all'iniziativa hanno partecipato tantissime imbarcazioni la benedizione è stata affidata a don marco di giorgio un altro paio di news tennis addio a ronni murrone del baratov una grande persona poi il colpo a villa cesaroni ripulita dai ladri bottino di mezzo milioni di euro e tanti danni la coppia di coniugi per fortuna nel nel dolore insomma di vedersi la casa violentata almeno non erano all'interno dell'abitazione buongiorno da luigi grazie caro luigi luigi ci aveva mandato qualche giorno fa la ruota la ruota che è arrivata al lido di fermo e la ruota che è stata qualche mese fa a macerata in zona giardini diaz grazie carissimo quindi ci segui dal lido 3 archi per forza mi auguro e spero che dopo il simpatico selfie abbia rimesso in acqua la stella marina ne saranno rimaste due in tutto l'adriatico poco fa una nostra amica ci ha fatto una foto sì ci ha fatto vedere una foto con una stella marina sicuramente l'avrà rimessa in acqua buongiorno buon inizio di settimana tutti anche da anna che ci segue da matelica immagine bella di montagne zona matelica questa qua facci sapere dove l'hai scattata 349 39 18 169 vi porto ora ad un altro servizio legato a quello che è successo nel weekend andiamo a filo trano per le celebrazioni dedicate agli 80 anni della battaglia che nella seconda guerra mondiale fu decisiva poi anche per la liberazione di ancona sentiamo in quell'estate del 44 i tereschi avevano scelto proprio filo trano per la posizione dominante sugli spazi incostanti l'aria pulita e i filo tranesi gente ospitale autentica sincera solare appassionata momenti di grandi emozioni per le celebrazioni dedicate all'ottantesimo anniversario della battaglia di filo trano corone di fiori e corteo guidati dal sindaco luca paolo rossi per celebrare in particolare i paracadutisti nembo protagonisti del combattimento che nell'aprile del 44 vide il corpo italiano di liberazione appoggiato da unità polacche scacciare i tedeschi dai centri di filo trano castelfidardo e osimo aprendosi la strada per ancona l'applauso più grande è un omaggio speciale da parte del comune di filo trano a luigi tosti 103 anni unico reduce in vita ad aver combattuto tra queste colline e queste case in una battaglia che vide 135 morti e più di 250 feriti gravi alle celebrazioni non è voluto mancare il presidente del consiglio regionale dino latini accanto al sindaco di santa maria nuova alfredo cesarini accompagnati dall'amp di e dal generale staccioli il sindaco paolo rossi ha ricordato dal palco il valore della memoria di questi uomini coraggiosi il cui testimone di spirito di servizio e sacrificio è rappresentato oggi dalle numerose divise presenti in piazza durante la toccante cerimonia è tutto mi fermo break servizio e servizio in ogni fase della vita per ogni bisogno speciale cos è al tuo fianco